Ciao ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, video dove posso raccontare finalmente tante cose belle. Sono ancora emozionata dall'incontro che ho avuto ieri per la prima volta con la mia nuova nipotina Margherita, perché Margherita è nata all'ospedale di Brescia, visto che la mamma è di Brescia e ha i genitori là, in modo che per i primi giorni le possono stare vicini. La bambina è nata sabato, ieri che era lunedì, no, l'altro ieri che era lunedì è stata dimessa e poverina la mia nuora, si chiama Silvia come la mia Silvia ma noi la chiamiamo Cipi, la Cipi si è lacerata nel partorire, la bambina era 3,8 kg, hanno dovuto ricucirla per bene e quindi è ancora abbastanza sofferente, poi insomma ha perso molto sangue, insomma è stato un parto abbastanza complicato, però alla fine è andato tutto bene e chi è mamma sa benissimo che quando abbiamo tra le braccia i nostri bambini il dolore passa in secondo piano, addirittura viene dimenticato, ma è provata questa cosa, c'è un ormone, se non sbaglio un enzima, non so bene di cosa si tratti, non me lo ricordo, che proprio agisce sulla nostra mente e ci fa dimenticare il dolore del parto ed è così perché altrimenti nessuno avrebbe mai un secondo figlio, un terzo e via dicendo. Comunque appunto adesso mia nuora e mio figlio che ha il congedo di 10 giorni, adesso il congedo per i papà è di 10 giorni, sono appunto a casa dei miei consuoceri e ieri finalmente siamo andati a trovare la bambina, non osavo chiederlo alla Cipi ma è stata lei che la stava allattando, ha finito da allattare quando siamo arrivati e ha detto vai un po' in braccio alla nonna e quindi ho potuto subito prenderla in braccio. Mio marito al momento ancora è titubante perché come tanti uomini hanno paura di far male ai neonati quando invece sappiamo che i neonati sono fortissimi, anzi più li manipoli, più li tieni in braccio, li giri e li rigiri più loro stanno bene, si sentono proprio avvolti dall'amore, dall'affetto. Insomma questa bimba tra le braccia, per chi mi segue in Instagram avrà visto la foto che ho messo ieri sera ho chiesto il permesso appunto ai miei genitori se potevo postarla, speravo mi dicessero di sì infatti la Cipi subito mi ha detto certo, certo e così ho provato questa grandissima emozione pensavo dopo quattro nipotini, la quinta nipotina certo c'è l'entusiasmo, c'è così la gioia di una nuova nascita però insomma ormai diciamo sono abituata, sono una nonna provetta e invece quando ti ritrovi tra le braccia questo fagottino che è carne della tua carne, piume delle tue piume come dicono i paperini è sempre una grandissima emozione, infatti mi scendevano le lacrime nella foto che ho messo in Instagram si vede che ho gli occhi lucidi, me li sento lucidi anche adesso, solo parlarne comunque una bellissima bambina che mangia, ha trascorso la prima notte a casa dormendo quasi tutta la notte incredibile ma vero? ed è bellissima, ha delle certe dita lunghe lunghe, anche i piedini, è lunga tutta lei c'è da dire che mia nuora è alta come me, mio figlio è due metri quindi sicuramente sarà una top model questa bambina e quindi siamo felicissimi, siamo veramente felicissimi ci sono gli altri nipotini, Lorenzo, Marco, Davide e Alice che non vedono l'ora di conoscere la nuova cuginetta io già sto pensando a fare una foto tutti e cinque insieme magari Alice seduta con Margherita in braccio e tre cuginetti maschi dietro che fanno così da corazzieri da guardie del corpo le due bambine lo so, si sono lavoro tanto di fantasia per oggi succede un'altra cosa meravigliosa oggi è l'8 di febbraio l'8 è il giorno, è il numero che ha riempito la mia vita nelle belle occasioni, in quelle un po' meno belle ma soprattutto quelle belle tant'è vero che Paolo e Sara si sono il mio Paolo, il mio figlio si sono sposati l'8 settembre e oggi che è l'8 di febbraio ci sarà un avvenimento importantissimo per la vita di Alice ma anche per quella di Sara e di Paolo perché Sara diventa finalmente illegalmente mamma a tutti gli effetti di Alice per l'occasione si sono regalate le due donne un girocollo con una stellina perché come due stelle vicine vogliono essere unite per sempre scusate ma ma che carattere del cavolo che ho che mi emoziono per tutto prima dicevo che avendo Margherita tra le braccia mi sono scese le lacrime mi sono emozionata però io ogni volta che ho l'occasione di vedere un neonato non so perché ma mi viene questo nodo alla gola questa commozione un nodo alla gola bello e che mi fa star bene che mi allarga il cuore perché penso sempre lo dicevo ieri rieccomi scusate ma ho dovuto interrompere perché sentivo che mi mancava il fiato per l'emozione voi direte ma non ti sembra di essere un po' esagerata sono così non posso farci niente il mio carattere è questo fin da quando ero bambina non sono riuscita mai a modificarlo crescendo l'emozione è sempre vivo le emozioni sempre in maniera molto forte tant'è vero che in quei giorni negli ultimi giorni prima della nascita di Margherita avevo la pressione alle stelle sono arrivata veramente a 170-180 di massima a 100 di minima 100 erotti di minima e invece adesso vabbè ho anche cambiato il farmaco però adesso si è stabilizzata completamente ho avuto un grande sollievo dopo che è nata la bambina poi in più questa bella notizia questo grande evento che riguarda la mia Alice insomma siamo tutti felici poi avevo paura che magari i cuginetti restassero come dire un po' indifferenti dalla nascita di una nuova cuginetta e invece i miei nepotini sono dei tesori anche i maschietti sono molto sensibili e sono entusiasti e non vedono l'ora di conoscere Margherita con questo io vi saluto con un grandissimo abbraccio un grandissimo sorriso e al prossimo video ciao ciao grazie a tutti